lunedì 29 febbraio buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati carissimi telespettatori di fano tv iniziamo la settimana finiamo il mese in un giorno che tra l'altro avviene una volta insomma il 29 di febbraio auguri a quelli che festeggiano oggi il compleanno e lo festeggiano così di tanto in tanto non sempre insomma vabbè comunque auguroni allora siamo qua in diretta alle sette e mezzo con santa augusto che il santo di oggi il cognome ve lo risparmio il sole sorto le 6 47 tramonterà 17 55 il tempo per oggi avremo cielo inizialmente sereno poco nuvoloso con nel pomeriggio precipitazioni brevi soprattutto nelle zone dell'entroterra dell'urbinate la parte nord della della regione per domani ancora precipitazioni durante le ore centrali possibilità di occasionali e brevi piovaschi sulla fascia collinare mentre tra martedì 2 marzo e mercoledì 3 è atteso un peggioramento per l'ingresso di area fredda con rovesce temporali poi si avrà invece un generale miglioramento ieri purtroppo la pioggia è stata la causa di tanti incidenti tanti tantissimi incidenti in giro per tutta la regione Marche il più grave quello che si è verificato sulla statale 16 adriatica ma ce ne sono anche altri se acquisterete i quotidiani ve ne renderete conto tante auto che sono finite fuori strada incidenti qua e là complice naturalmente il l'asfalto viscido senz'altro in qualche caso probabilmente anche la velocità ma molte volte anche gli pneumatici che non sono non sono sempre controllati non sono sempre a norma vuoi perché la crisi purtroppo fa sì che anche la manutenzione delle automobili sia un po scarsina sia fatta con non con quella regolarità con cui invece dovrebbero essere fatte queste manutenzioni perché la sicurezza in auto importante allora dicevamo di questo schianto frontale cominciamo dal resto del carlino questa è la pagina di pesaro eccolo qua la foto di questo tremendo incidente ancora strade insanguinate marito e moglie di marotta feriti gravemente sull'adriatico in uno schianto tra due auto e tra l'altro nell'altra c'era anche nella y10 c'era anche una 47 43enne di senigallia allora vediamo l'articolo all'interno dicevamo di questa ragazza che viaggiava sulla y10 di 43 anni alessandra becci di senigallia che è quella meno grave di tutti è ricoverata all'ospedale di fano mentre mentre la coppia marito e moglie lui di 80 anni sesto beciani del di marotta del posto con accanto la moglie maria serfilippi di 77 anni in quel momento stava piovendo la visibilità c'era però purtroppo le auto si toccano con le loro parti di sinistra l'urto è violento per i coniugi la situazione si presenta subito grave arriva l'elicottero uno viene portato ad ancona l'altro finisce invece all'ospedale di pesero sempre in codice rosso con l'ambulanza naturalmente è una notizia questa che viene riportata vedete anche sul corriere adriatico sul messaggero il corriere scrive schianto tre feriti anziana grave terribile frontale a piano marina l'adriatica resta chiusa per per ore il traffico è stato deviato stessa cosa anche sul messaggero messaggero scontro sull'adriatica in tre restano feriti grave anziana coppia lo schianto ieri pomeriggio marotta sulla statale 16 la moglie trasportata da ancora il marito invece a san salvatore di pesero poi l'altra notizia è che invece sono stati segnalati altre quattro casi di listeriosi in regione la nostra provincia quella di pesero per ora è fuori ma insomma due donne due a macerata e due ad ancona una di queste è in rianimazione una donna di circa 70 anni con un quadro clinico già critico è stata ricoverata in rianimazione a macerata negli altri tre casi invece un'altra donna sempre a macerata e altri due ad ancona anche se i pazienti qui per fortuna sono meno meno gravi massimo agostini che lo conosciamo benissimo in quanto spesso è in anche nel nostro ospite del nostro telegiornale quando si tratta di malattie infettive quant'altro e di sanità pubblica chiaramente il direttore della prevenzione dice stiamo facendo verifiche a ritroso sui casi vecchi e sotto il carlino giustamente fa il punto sulla patologia su questo batterio presente negli alimenti come il pesce affumicato insalate nelle carni non cotte latte non pastorizzato è tollerato entro certi limiti ci sono casi chiaramente anche precedenti agli inizi di febbraio le autorità sanitarie danno la notizia di 13 casi registrati nella nostra regione di cui tre da noi uno ad urbino e due a fano poi ancora abbiamo visto in macerata dall'altro ieri la notizia di altri quattro casi due macerata e due ad ancona una delle pazienti di macerata è stata ricoverata come dicevo in rianimazione sul fronte della sicurezza invece l'altro giorno c'è stata la manifestazione della lega nord dopo il dopo il quinto furto in pochi mesi al polvere di caffè che si trova nel quartiere di santorso la lega scaldagliani mi scrive il giornale una fiaccolata del carroccio mentre a pesero c'è un consiglio sull'ordinanza sempre oggi a fano a partire dalle 18 in via bellandra la lega nord organizza una fiaccolata di solidarietà con le vittime dei furti e per chiedere urgenti misure al governo la pagina di pesero invece del corriere adriatico da pesero ecco i fondi per salvare fiorenzuola dal ministero un milione per mettere in sicurezza la falesia altri finanziamenti per il borgo all'intervento si affianca il progetto europeo med cost per incentivare le attività economiche da fossombroni invece la notizia che è ufficiale l'arrivo di tre nuovi medici il vice sindaco chiarabilli ribadisce il potenziamento dell'ospedale con più personale h24 cioè 24 ore tutto il giorno secondo chiarabilli con la delibera 139 della giunta regionale sono stati corretti gli atti 735 e 1183 sempre dal corriere la pagina di fano il fisico cicoli torna alla nolfi dove aveva studiato da ragazzino e incanta i ragazzi il giovane ricercatore premiato di recente da mattarella il presidente della repubblica per i suoi studi sulle particelle ha raccontato la sua storia poi alcune notizie flash sempre dal giornale di spalla club mattei cibi club mattei saverio olivi è stato riconfermato presidente della dell'associazione di volontariato di protezione civile nel corso del rinnovo delle cariche che si è svolto mercoledì scorso ed è stato votato da 79 soci resterà in carica fino al febbraio del 2019 naturalmente a lui e a tutti i suoi volontari gli auguri di buon lavoro stasera il politeama fano debutta la nuova compagnia della la nuova scusate commedia della compagnia del gaffa per cianfrusaglia la rassegna di commedia in dialetto fanese quello scherzo agli eredi del cardinale defunto è una divertente come sempre commedia che appunto parte questa sera a lezione dal fotoclub se vi piace la fotografia se avete passione per la fotografia il corso partirà giovedì 10 marzo alla sala il cubo nel quartiere di san lazaro sempre fanno ci sono le iscrizioni che partiranno i numeri di telefono con l'email li trovate pubblicati sul corriere di oggi adesso invece dal messaggero sicurezza operazione whatsapp siamo pesero lancia il controllo divicinato appoggiandosi alla popolare applicazione di messaggistica crescentini già sperimentato in altre città chiederò al sindaco di diffondere l'iniziativa tra i quartieri e sotto anche qui la foto con lo schianto sulla statale 16 e poi banca marche codacons in aiuto dei risparmiatori organizzata per domani un'assemblea domani sera nella sala della provincia con l'avvocato barbieri verranno spiegate quali procedure seguire per cercare di ottenere un risarcimento poi il meteorologo invece ultimi residui di maltempo con la pioggia che ieri è caduta su tutta la regione poi sicurezza l'allarme corre su whatsapp crescentini dice già preso contatti chiederò al sindaco di attivarsi la capogruppo di siamo pesero propone di istituire questo controllo divicinato utilizzando whatsapp che ormai in tantissimi anno e in tantissimi utilizzano ambito sociale siamo di nuovo affano il neo coordinatore entro entro marzo il nuovo coordinatore dell'ambito sociale se potrebbe insediarsi entro la seconda decretaria del prossimo mese questo è l'auspicio dell'assessore marina barnesi presidente dello stesso ambito locale ora che il comune di fano ha pubblicato il bando per individuare il successore di sonia battistini e quindi staremo a vedere chi sarà poi fanno un fortuna e chiama l'areoclub pronti a ospitarvi nei vostri hangar il dibattito sulla zona dell'aeroporto il parco urbano è compatibile con le attività legate al volo abbiamo anche donato 500 piante chiudiamo con le due pagine sportive torniamo sul resto del carlino la serie di la 26esima giornata purtroppo il fanno ieri ha perso a chieti 2 a 0 rigore e cartellino rosso per il difensore fanno torta variata questo il titolo un episodio dubbio decide la gara granata molto pericolosi nel primo tempo poi il chieti trova la giocata ed è insomma la fine per il granata che perdono appunto sul combo ne vanno sotto i due gol alessandrini l'allenatore del fanno fallo inventato poteva finire in modo diverso mentre i cugini pesaresi a fermo hanno vinto 1 a 0 panchina d'oro la vis sbanca fermo nella ripresa entra falomi va subito in gol e sfiora il raddoppio prestazione solida e impeccabile del vispesoro questa sera invece dopo il tg naturalmente alle 20 e 30 vi mostreremo la partita dell'alma che appunto si è disputata ieri a chieti con la telecronica di catalani io invece mi fermo qui vi ringrazio per aver seguito occhio ai giornali la rassegna torna domani mattina alle 7 e 30 questa sera invece come di consueto puntuale alle 20 e 30 c'è il telegiornale occhio alla notizia grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti